Il Cestino della Spazzatura Tanto non mi prendi! Rallenta! Ehi, voi due ragazzi, state più attenti! Dovete fare attenzione per strada! Non preoccuparti, Scooby! Provo a prendermi! Lo farò! Attenzione! Ciao, Cleanie! Come mai così di fretta? Oh, Polly, sono in ritardo per pulire via delle arance! D'accordo, fa attenzione, ok? Stai bene, Whooper? Sì, sto molto bene, Polly! Devi ricordare di prestare molta attenzione quando fai le curve! Lo farò! Ma ora devo andare! L'hanno di nuovo rovesciato! Chi è che continua a farlo? Che cosa triste! Ciao, Cleanie! Ciao, Scooby! Caspita! Cosa è successo qui? C'è qualcuno che continua a rovesciare il cestino e a mettere tutto sottosopra! Oh, cosa? Il cestino! Questa è la terza volta oggi! Accidenti! Chi potrà mai essere stato? Ehi, puoi muoverti? Mi dispiace! Buona fortuna! Grazie, ciao! Ecco fatto! No! Oh, non di nuovo! Adesso basta! Squadra di soccorso, sono Gin! Oh no, Cleanie! Cosa? Il cestino? Sì, è già successo quattro volte! Finora! Non preoccuparti, Cleanie! Controlliamo subito! Che cosa succede, Gin? Cleanie ha appena chiamato per denunciare che qualcuno continua a rovesciare uno dei cestini di Via delle Arance! Rovesciano i cestini? Non è una bella cosa! Ma chi farebbe una cosa del genere? Dobbiamo controllare la zona! Roy, in azione! D'accordo, Poli! Ehi, voi due ragazzi, aspettate! Ascoltatemi! Potreste farmi un grande favore e comportarvi bene oggi! E vi prego, prestate la massima attenzione quando giocate attorno ai cestini! D'accordo? Sì, va bene! Ok, a domani! Ciao! Colpito! Ehi, no, non è vero! Guarda lì! Che cos'è, Poli? Ma certo! Roy, penso di aver capito chi è che butta i cestini a terra! Fantastico, Poli! Kevin e Doug! No, Wooper! Attenzione! Fatto! Tutto a posto! Mi dispiace tanto! Wooper, so che ti dispiace! Ma hai dimenticato che quando un veicolo grande come te gira, la ruota posteriore fa una curva più stretta? Cosa? Che significa più stretta? Kevin, Doug, anche voi dovreste ascoltare! Certo! Quando i veicoli si apprestano al girare, le ruote posteriori fanno una curva sempre più stretta rispetto a quelle anteriori! E più grande è il veicolo e più la ruota posteriore taglia la curva! Ecco perché è molto pericoloso giocare vicino agli incroci! Oh, abbiamo capito! E se l'incrocio è più piccolo, è più difficile evitare le auto! Quindi si deve fare molta più attenzione! Inoltre, quando si è in bicicletta, dovreste evitare di fare le curve vicino alle auto e mantenere la distanza di sicurezza, perché i vestiti e gli zaini potrebbero agganciarsi al mezzo! Quindi rimanete indietro! Intesi? Sì, abbiamo capito, Poli! Ho capito anche io! Prometto che farò più attenzione d'ora in avanti, Poli! E ciò significa che qui non è un buon posto per questo cestino! Hai ragione! Siete stati voi due a farlo! Cleanie! Credimi, Cleanie, non è come sembra! Siete due bambini cattivi! Molto cattivi! Aspetta, no! Non siamo stati noi! Sì, siamo innocenti! Il microonde Perché quel muso lungo? Qual è il problema? Vedi, papà, sono un po' triste per un mio amico! C'è questa bambina che gli piace tanto, ma è abbastanza sicuro che a lei non piaccia per niente! Questo riguarda il tuo amico? Sì, ma certo! Johnny, sappi che alle ragazze piacciono i ragazzi dolci? Proprio come questo gelato! Mmm, delizioso! Aspetta, Jin! Oh, ciao, Roy! Che succede? Jin, non puoi mettere la carta argentata nel microonde o andrà a fuoco! Oh, come ho potuto dimenticarlo! Uso sempre il microonde, quindi sarà meglio fare più attenzione! Jin, hai finito con quello! Oh? Ellie, ferma! Oh, e perché? Se metti la carta argentata nel microonde andrà a fuoco! Davvero? Ellie, lo sanno tutti quanti! Ehi, hai superato il test! Sì, credo di sì, ma lo scopriremo presto! Ah, non faccio altro che pensare a una bella coppetta gelato! Oh? Johnny, io amo il gelato! È buono, vero? Io faccio delle ottime coppette! Fantastico! Cindy, vieni con me! Ti preparerò un gelato buonissimo! Mo preferisci il cioccolato o la fragola? Ecco, ehm... Cioccolato! Anche io! Cosa? Non ho mai detto che potevate venire! Hai detto che avresti fatto delle coppette gelato! Sì, ma non per voi! Vediamo, ragazzi! È antipatico quando litigate! E a me piace la fragola! Oh, ottima scelta! Forza, gelato per tutti! Urra! Ciao, papà! Salve! Oh, ciao, bambini! Ta-da! Wow! Fantastico! Smettila! Servono per le coppette! Io e Charles andiamo a giocare, allora! Chiamaci quando saranno pronti! Vieni, Charles! Aspetta! Non capirò mai perché non andate d'accordo! Eh? Johnny! Che cosa stai facendo? Montò la panna! Per delle buone coppette bisogna fare la panna fresca! Stai bene! Preferisci che ti tenga la ciotola? Ecco qui! Ah! 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 Sto forse sognando! Ah! 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 C'era una mosca! Johnny! Possiamo avere una merendina! Controllate se nel frigo c'è qualcosa che vi piace! Ah! Wow! È l'ora della pizza! Credi che dovremmo scaldarla? Sì, vado a prendere dei piatti! Ah! Caspita, è bellissimo! Sembra uscito da un giornale! Ah! Cosa c'è da ridere? Hai qualcosa qui sulla guancia! Eh? Qui? Ah! Ah! No, ci penso io! Ah! 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 Andiamo, Johnny! Ah! Ah! Il gelato! Ah! 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 C'è del fumo a casa di Johnny! Ah! 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 Rimanete tutti qui! Ora me ne occupo io! Ah! 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 A casa è al sicuro! Grazie! Dobbiamo fare una bella chiacchierata su come usare in sicurezza il microonde! Prima regola! Mai e poi mai mettere niente di metallico nel microonde! Le microonde possono causare un incendio quando rimbalzano sul metallo! Seconda regola! Bisogna forare o tagliare a fette il cibo prima di metterlo nel microonde! Se il vapore non abbia d'uscita, il cibo potrebbe letteralmente esplodere! E terza regola! Alzate un po' i coperchi dai contenitori per evitare il microonde! E esplosioni! Sono regole semplici! Sì! Possiamo seguirle! Mmh! Oh! Il nostro gelato! Io e Cindy ci avevamo lavorato tanto! Sì! Ma ci siamo divertiti, giusto? Lo rifaremo! Oh! Davvero? Hai ragione! Sarebbe fantastico! Ok! Ma non dimenticate! A me piace più il cioccolato! Peter! Tu non metterei mai più piedi a casa mia! Oh, certo! Solo alle belle ragazze vai gelato! Sicuri nel parcheggio! Tadà! Accidenti! Che cos'è? Ho fatto una lista delle cose che dobbiamo comprare oggi! Davvero? Tutte quelle? Tutto quanto! Il Broom Smart sta facendo una svendita! Coraggio! Sarà meglio sbrigarci prima che finisca tutto quello che ci serve! Posso avere un videogioco? Io voglio un nuovo orsacchiotto! Bambini, temo che quelle cose non siano sulla lista! Ok! Allacciate le cinture! Si parte! Ok! Oh! Quante macchine! Da quella parte! Mamma, guarda! Sì! Cielo! State bene! Oh, peccato! Siamo arrivati in ritardo! Mamma, guarda! Ce n'è uno! Dov'è? Oh! Oh! C'è già una macchina parcheggiata lì! Beh, mamma, a quanto pare non c'è parcheggio! Ma io non dimordo! Un parcheggio! Evviva! Kelly! Ellie! Ellie, come sta andando il traffico in città? A dire il vero, Broom Smart sta facendo una svendita e tutte le strade sono intasate! Oh no! Me ne ero completamente dimenticata! Dovevo andare a comprare un nuovo costume da bagno, ma se li avessero già finiti! Jean, non dovresti pensare prima a risolvere il problema del traffico? Ellie, andiamo insieme! Ok! Ok! Ora aspettate, vengo ad aprirvi lo sportello! Sta' attento! Dovresti stare più attenta, mamma! Ti avevo detto di aspettare! Stai bene, mammina? Sì, sto bene! Stop! Passare! Muoversi, prego! Ora la situazione è sotto controllo! Ellie, come va lassù? Beh, ci sono ancora un sacco di auto dirette al negozio! Davvero? Ti vengo a dare una mano allora! Grazie! Sono in ritardo! Sono in ritardo! Che succede? Quell'auto non sta guidando con prudenza! Ehi, mamma! Metto il carrello a posto! Questo qui! E questo qui! Eccola lì! Oh, sì! Alla massima velocità! Fantastico! Non c'è parcheggio! Kevin! Attenzione! No! Ferma! Kevin! Accidenti! I parcheggi sono pericolosi! Devi sempre tenere i tuoi figli sotto controllo! Oh! È successo così in fretta! E in quanto a lei, signora, non può andare così forte in un parcheggio! Sono così dispiaciuta! Avevo paura di perdere la svendita! Kevin! Susie! Dovete ascoltarmi entrambi attentamente ed essere cauti d'ora in avanti! D'accordo! D'accordo! Non dovreste mai correre né giocare in un parcheggio! Perché non si sa mai né quando né dove possa spuntare una macchina! È molto pericoloso! Ed è facile inciampare su un dosso o in una barriera per parcheggi! Quindi dovreste sempre camminare piano e guardare dove si sta andando! Inoltre, ricordate che prima di scendere dalla macchina, bisogna assicurarsi che il veicolo sia completamente fermo! E che le altre auto attorno a voi non si stiano muovendo! Se vi trovate in un garage ed è così buio da non riuscire a vedere, assicuratevi sempre di camminare insieme a un adulto! Infine, Kevin, devi sapere che è estremamente pericoloso andare in bici o dentro un carrello della spesa in un parcheggio! Capito? Sì, ho capito, Polly! Insomma, mamma, riusciremo a tornare a casa! Manca poco, quasi finito! Ok, forse se metto questo sopra e sposto quest'altro... Vigile del fuoco per un giorno Bambini, guardate! Tirate la spinetta di sicurezza, puntate l'erogatore verso il fuoco e premete il grilletto! Provate! La spinetta non si toglie! Peter, congratulazioni! Sei un vigile del fuoco! Wow, fantastico! Che bello! Sembri un vero vigile del fuoco! Sono fiero di te, figliolo! Troverò un buon posto per mettere l'estintore! No, non puoi, mamma! La sicurezza della casa è nelle mani del vigile del fuoco! Ha ragione! Lasciagli fare l'esperto! Eh? Oh cielo, al fuoco! Al fuoco! Oh! Siamo tutti in salvo! Sono un vero vigile del fuoco o no? Sì! Peter è stato davvero fantastico! Mio fratello è il migliore! Piano, Buddy! Allontanati, è pericoloso! Sembra sicuro! Quello è... Peter! Oh, caspita! Credevo fosse un incendio! Santo cielo, che paura! Il mio ferro sta bruciando! Cos'è? Potrebbe essere... Papà! Sono qui, allontanati! Peter! Non c'è un incendio! Che profumino delizioso! Tesoro, non è pronto ancora? Manca molto poco! Oh! Ho il fuoco! Ho il fuoco! Ci è mancato poco! Peter! Che cosa hai fatto? Ho estinto un incendio! Peter ha ruinato tutto il barbecue! Peter, non era un incendio pericoloso, ma un po' di grasso che è colato sul carbone! Già, succede sempre quando si cucina sulla griglia! Sono questi gli atteggiamenti a rischio che possono causare pericolosi incendi! E questa è l'ultima goccia! Lo prenderò io! Ma papà, no! Deve essere da qualche parte! Oh! Trovato! Cosa c'è, Buddy? Ho il fuoco! Che cosa sta succedendo? Buddy, che succede? Papà! Peter! Che succede, Gene? Roy, va a casa di Peter più in fretta che puoi! C'è un incendio in garage! Subito! Roy! Qualcuno è ferito? No, stiamo tutti bene! Domerò l'incendio! Voi cercate un posto sicuro! Lo faremo! Grazie, Roy! Quell'incendio avrebbe potuto distruggere la casa! Mi dispiace davvero tanto, ma l'estintore non ha funzionato! Peter, posso vederlo un secondo? Ma certo, Roy! Dimmi, Peter, l'hai usato molto spesso? Credevo ci fossero degli incendi! Peter, gli estintori non possono essere usati molte volte! Quando si usa un estintore, fuoriesce del gas e la pressione diminuisce, quindi poi non funzionerà più! Devi controllare l'estintore regolarmente per vedere se c'è abbastanza pressione! È meglio mettere gli estintori vicino alle porte, così sono più facili da trovare! Per usare un estintore, tirate la spinetta di sicurezza, mettetevi contro vento e puntate l'erogatore verso il fuoco! Poi premete il grilletto e spegnete l'incendio! Peter, sei stato molto coraggioso a usare l'estintore per quell'incendio, ma sarebbe stato meglio se ti fossi allontanato dal garage! Hai ragione, Roy! Succol morale, Peter! Cercavi solo di tenere la tua famiglia al sicuro! Sì, è vero! Esatto! Ora scambiamo il tuo vecchio estintore con uno nuovo! Forte! Un nuovo estintore! Che dovrà rimanere nuovo! Prometto che non farò danni questa volta! Fammelo solo tenere! Scardatelo! Gara di velocità! Wow! Sono i pattini in linea Super Jet! Favolosi! Dog, sono i tuoi! Sì, certo che sono miei! E con questi ragazzacci... Io faccio il giro dell'universo! Caspita! Fantastico! Mi prendi in giro! Vuoi combattere contro un mostro spaziale indossando i pattini? Cosa? Solo perché sei geloso! Di cosa? Di quei pattini! Il neonopattino ti può far mangiare la polvere quando vuole! Oh, sul serio? Non è vero! Faresti meglio a crederci! Va bene! Ci sfideremo alle quattro! Allora ci vedremo più tardi al parco! Kevin! Ci rischiamo un'altra volta! Jenny! Tu sarai il nostro giudice! Qual è il vostro problema, ragazzi? Se vuoi... Nessun problema! Quindi dovremmo cambiare tutti i palazzi quadrati e farli tondi come questi! Così sarebbe più facile entrare e uscire da una via! E inoltre attuando questa modifica elimineremo tutti i problemi dei punti ciechi! Hai assolutamente ragione! Ok, allora! Andiamo lì fuori e mettiamoci all'opera! Ok! Mamma! Mamma! Hai visto il mio monopattino? Non riesco a trovarlo da nessuna parte! Non te lo ricordi? Lo hai buttato via perché si era rotto! Oh, hai ragione! Pensa, pensa! Accidenti! Caspita! Come farò a battere Daga con questo sciocco monopattino? Non cadrò! Va tutto bene! Pensi veramente di battermi usando un bastone, Doug? Sì! E tu vuoi gareggiare con quel monopattino da poppanti? Io sono più veloce di te con qualsiasi mezzo! Va bene! Cominciamo la sfida adesso! Per me vabbè! Ok! Pronti? Partenza? Via! Però questo vicolo è veramente molto stretto! Yuhuu! Sì! Verso la vittoria! C'è l'ho fatta! Mangia la mia polvere! Ok, allora! Arrivo! Prendi questo! No, anche questo vicolo è troppo stretto! Cosa? Rallentate! Siete in pericolo! Kevin! Doug! Rallentate! Polly! Polly! Aiutaci! State attenti! State bene, voi due! Sto bene! Kevin, Doug, sapete che è pericoloso andare così forte per la strada! Io volevo solo dimostrare che il mio monopattino era più veloce! No! I miei pattini sono più veloci! Non ha importanza! La cosa più importante quando si va veloci è essere prudenti! In una via secondaria come questa ci sono macchine, motociclisti e pedoni! Se andate troppo veloci con i vostri pattini o con il monopattino, non riuscirete a evitare le persone o le auto e potreste rischiare di fare un incidente! Se vi trovate in discesa, non potrete rallentare e potreste provocare un incidente ancora più grave! Non hai tutti i torti, ma non riuscivo a fermarmi più! È vero! D'ora in avanti, ricordate di usare pattini e monopattini in luoghi sicuri, come il cortile della vostra scuola o il parco! Non usateli mai nelle vie secondarie o nei parcheggi! E quando siete in compagnia, non gareggiate gli uni contro gli altri e state attenti a non scontrarvi! Dovreste sapere che il vero modo per essere vincitori è essere sempre prudenti! D'accordo? Sì, Poli! Ce lo ricorderemo! Pronti? Via! Che cosa state facendo? Poli ci ha detto... Che i veri vincitori... sono sempre quelli più prudenti! Cosa? Io sono più prudente di te! No! Sono io il più prudente! Lo spettacolo di magia Guardate da vicino! Oh, tada! Che aspira! Fantastico! Johnny, sei il migliore! Quel trucchetto è roba da bambini, vi prego! Lo dici tu! Preparatevi per una vera magia! E tada! È incredibile, Peter! Questo sì che è un vero trucco magico! Guardate qua! Spooky fa uno spettacolo di magia! Aspettate! Sembra divertente! Io ci voglio andare! Ecco! Spooky è tutto fatto! Grazie mille, Roy! Ora mi sento al sicuro! Un piccolo errore può provocare un grande incendio! Finché lo spettacolo non sarà finito, sta molto attento! Beh, ci vediamo dopo! Ciao, Roy! Spooky! Oh, Peter! Cosa succede? Spooky, fammi essere il tuo assistente! Tu? No, grazie! La magia non è per tutti quanti! Spooky, guarda qui! Cosa ne pensi? Sono bravo, vero? Ma non puoi ancora! Ti sopplico, Spooky! Voglio imparare il tuo fantastico trucco con il fuoco più di ogni altra cosa! Sì, il trucco con il fuoco è stato fantastico! Io direi che è il miglior trucco magico dell'intera città! No, aspetta! Di tutto il mondo! Va bene, va bene! A pensarci potrebbe essere bello avere un assistente! Grazie, Spooky! Sarà fantastico! Sono emozionata! Wow! Accidenti! Non riesco a crederci! Sono venuti tantissimi i miei amici! Sono al settimo cielo! Ci siamo esercitati tanto, quindi diamogli il miglior spettacolo di sempre! Saranno tutti sorpresi di vedermi sul palco! Signore e signori, benvenuti allo spettacolo di magia di Spooky! Caspita, quello è Peter! È fantastico! Ed ecco qui Spooky! Ciao a tutti! Benvenuti nel mondo della magia di Spooky! Wow! Wow! Oh! Oh! Peter! 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 E ora, il trucco che stavate aspettando L'incredibile magia del fuoco di Spooky! Spooky, buona fortuna! Spooky! 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 Wow! Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Spooky! Fatti da parte! Subito! Peter, ottimo lavoro Per fortuna è gridato subito al fuoco E abbiamo potuto evacuare il tendone Non ho fatto niente! Ascolta, ecco alcuni consigli su cosa fare in caso di incendio Se c'è un incendio, grida al fuoco per far sapere a tutti del pericolo Poi dovresti cercare l'allarme antincendio il più velocemente possibile Se non lo riuscissi a trovare Far rumore per far sapere alla gente che è in pericolo Infine, se ti trovi in un posto che va a fuoco Butta delle cose dalla finestra Oppure agita un vestito Così le persone si renderanno conto che c'è qualcuno in pericolo E potranno agire, capito? Non lo dimenticheremo, Roy! Ci siamo esercitati tanto Quindi diamogli il miglior spettacolo di sempre Spooky! So che sei triste È stato il più grande spettacolo di magia della tua vita Spooky, sui morale Per me è stato fantastico Giusto! Perciò non devi essere così triste Bambini! Indovinate! Bam! Un ancora più grande spettacolo di magia di Spooky! Sarà domani Ditelo ai vostri amici Cosa? Un ancora più grande spettacolo di magia? Non vediamo l'ora! Guardare quando si attraversa Un gattino! Ti hanno abbandonato? Kevin! Il semaforo è verde! Sbrigati! Arrivo! Oh, non posso! Doug! Aspetta! Kevin, sta attento! Ehi, guarda dove vai! Mi scusi! Gli incidenti sulle strisce pedonali che coinvolgono i bambini sono in aumento Cosa suggerite di fare? Io andrei a controllare se i semafori funzionano bene Buona idea! Amber, andate insieme! Noi vigileremo le strisce pedonali e aiuteremo i bambini ad attraversare Silenzioso, come un ninja Ecco Kevin, mamma dice di venire a mangiare! D'accordo Cos'hai lì? Non ho niente Un gattino! È così carino! Shh! Mamma, non deve scoprirlo Susi! Ok, stiamo arrivando Susi! È bellissimo! Grazie per la cena! Grazie, mamma Ok Forza, mangio, Elisabeth! Lei non si chiama Elisabeth Ehi, Elisabeth! Sei proprio adorabile! È bellissima, sono io un zigotione! Miau! 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 Tres! Luis! Miau! Kevin, svegliati! Sono sveglio, Susie Che cosa succede? Elisabeth è scomparsa! Cosa? Elisabeth? Elisabeth! Elisabeth! Dove sei? Forse deve essere uscita dalla finestra Kevin! Povera Elisabeth! Elisabeth! Dove ti sei cacciata, Elisabeth? Torna qui! Ehi, Susie! Aspetta! Elisabeth! Aspettami! Amber, andiamo a controllare la situazione sulla settima strada D'accordo! Ok, possiamo andare Susie! L'ho trovata! Elisabeth! Togliti di mezzo! No, Susie! Sto attento! Eh? Attenzione! Attenti! Oh, Elisabeth! È stato molto pericoloso, Susie Grazie per averci salvato, Poli Susie, devi capire che è davvero pericoloso tornare indietro mentre stai attraversando la strada Non lo sapevo Ora statemi bene a sentire, perché vi insegnerò ad attraversare la strada nel modo corretto Mi state ascoltando? Ah-ha! Dovete stare molto attenti perché ci sono tante macchine sulla strada Dovete sempre assicurarvi che tutte le vetture siano ferme, anche quando il semaforo diventa verde Mentre attraversate la strada non tornate indietro perché le auto potrebbero non averlo visto Se dovete tornare indietro, arrivate prima dall'altra parte e aspettate che il semaforo scatti E mentre attraversate la strada, non fermatevi a raccogliere oggetti da terra Non giocate, né leggete libri e guardate solamente la strada Ricevuto! E se la luce verde sta lampeggiando, è sempre meglio aspettare Ok, Poli! Allora, dove vi eravate cacciati? Cos'hai lì, Susi? Oh, santo cielo! Oh! È un gattino! Ti chiamerò Mittens! Ma il suo nome è Elizabeth! Io preferisco Mittens! Non puoi cambiare il nome, mamma! Non si gioca con il fuoco Bambini, lì c'è il cavolo E qui l'alatuga E gustosi spinaci Wow! Guardate qui! Wow! Cosa stanno facendo laggiù? E se faccio così... Cosa state facendo? Mi hai spaventato! Charles, vieni a vedere questo! Peter sta bruciando i legnetti con l'alante d'ingrandimento Peter, non dovresti mai giocare con il fuoco Ma non sto giocando È un esperimento scientifico che sfrutta la potenza del sole Guarda, ha funzionato! Caspita! Oh, quel fuoco non è troppo grande? Ok, bambini, venite qui! Forza, andiamo! Ciao, bambini! Tornate presto! Cosa non va con la luce? Al fuoco! Avete sentito? La casa di Trachi è andata a fuoco Davvero? Chissà cosa è successo! Hanno dovuto chiamare la squadra di soccorso È stato un brutto incendio Oh, mamma! Fredy sta bene? Pensi che siamo stati noi a causare l'incendio da Trachi? È strano Ma il nostro fuocherello era fuori Ascoltate, ragazzi Dobbiamo essere onesti e dire alla maestra del fuoco Cosa? Charles, stai scherzando! Se lo diciamo alla maestra Lo scopriranno anche i nostri genitori E lo diranno alla squadra di soccorso E poi finiremo in prigione o peggio? Oh no, in prigione! Io non posso andare in prigione Quindi? Ciò che abbiamo fatto da Trachi Sarà il nostro segreto E non lo diremo a nessuno Ah, ma... Kleene, hai sentito? C'è stato un brutto incendio a casa di Trachi E Trachi si è fatto male Davvero? Ha grovemente ferito? Beh, è a letto avvolto dalle bende Mi dispiace Ma devo confessare quello che abbiamo fatto Cosa? Non puoi farlo Hai promesso di non dire niente? Ricordi? La penso come Johnny Trachi si è fatto male Ed è tutto per colpa nostra Ragazzi, per favore Non fatelo! È deciso Nessuno dirà una parola D'accordo? Sono tornato Ciao, Peter Hai sentito? C'è stato un incendio da Trachi Mamma, sono stanco Vado a letto Mi chiedo quale sia il suo problema Peter, ti è accaduta questa? Dammela! Dammela! Peter, sono così delusa che tu abbia causato l'incendio Sì, non sono... Hai dato fuoco a casa di Trachi Non credevo che il nostro figlio fosse così Papà, mamma, non è vero! Peter! Johnny, Johnny! Perché siete lì dentro? Peter! Come hai potuto fare questo al buon vecchio Trachi? Guarda cosa hai fatto! Trachi, mi dispiace, mi dispiace È tutta colpa mia! Ragazzi, cosa state cercando di dirci? Giocavamo con il fuoco, non volevamo Ma l'incendio è stata colpa nostra È colpa nostra se Trachi si è fatto male Non sapevamo che sarebbe successo Ci dispiace così tanto Ci dispiace tantissimo Jean, ho portato della frutta fresca qui Trachi, stai bene? Bambini, l'incendio a casa di Trachi È stato causato da un cortocircuito Mi sono solo un po' bruciato la mano Siamo davvero contenti che non ti sia fatto male Aspettate, esattamente cosa avete fatto vicino al garage di Trachi? Bambini, giocare con il fuoco è davvero pericoloso Non dovete farlo mai più Non dovreste mai giocare con fiammiferi Accendini, candele o lenti di ingrandimento per divertirvi Potreste causare un grande incendio Materie come plastica, carta, carta igienica e legno Sono altamente infiammabili Quindi state attenti perché un fuocherello Può diventare un grande incendio E se scoppia un incendio, ricordate sempre Non preoccupatevi di finire nei guai E chiamate subito i pompieri Rai, non succederà mai più Vedo che siete dispiaciuti e va bene Ma dovete essere puniti Quindi scriverete dieci pagine di scuse Dieci pagine? Ma noi siamo già tanto dispiaciuti, Ingin! Grazie! 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 Grazie!